È arrivata con un rimbalzo dentro l'aria, quindi l'ho provata a colpire di testa e l'ha salvata sulla linea, quindi purtroppo non è entrata. Oggi Crecco festeggia le sue 100 presenze tra i professionisti. Poteva essere con tre punti e quell'occasione che hai appena raccontato, però hai considerato quanto è successo sugli altri campi bene così? Sì, i risultati sono stati buoni per noi. La vittoria ci portava in alto nei play-off, quindi abbiamo fatto una buona partita, un buon secondo tempo e ci meritavamo comunque la vittoria. Poi purtroppo abbiamo subito anche due o tre occasioni dove pure loro potevano andare in vantaggio, quindi alla fine è stata una partita tirata. Ne abbiamo parlato proprio con il tuo allenatore qualche secondo fa, nel secondo tempo avete avuto tante occasioni per vincere questa partita e nel secondo tempo si è rivisto un Pescara dal vero all'altezza. Sì, nel secondo tempo abbiamo più spazi di manovra, quindi tra le linee abbiamo più tempo di gioco, quindi abbiamo creato di più il secondo tempo. Nel primo tempo comunque ci siamo un attimo studiati tutte e due le squadre, comunque affrontare il Carpi non è facile perché loro giocano un calcio comunque sempre aereo, quindi non è facile giocare a pallone. Prima di ascoltare Castori rispondimi con una secco, sì o no, play-off in cassaforte. No, ci puntiamo, ci puntiamo perché ancora non è detto niente, comunque nel calcio non si sa mai, però secondo me se con il Verona facciamo una gran partita siamo quasi dentro.